Tutti al golf nel primo round dell'ottantunesimo Open d'Italia presente by Regione, Emilia Romagna. Siete stati in tanti oggi a correre in campo per seguire gli azzurri che aprono l'Open di casa con un caloroso benvenuto ad ottimi score. Favoloso Andrea Pavan su un giro limpido in 64 colpi con un gioco esemplare in tutti i settori, con la calma di chi sia essere entrato nel periodo rock del proprio swing, meno 7. Francesco Laporte e Jacopo Vecchifossa ci mettono il cuore, il nostro pugliese sente profumo di mare, ci è abituato e chiude 5 colpi sotto al par. Il modenese modella un meno 4 su un campo che si addice al suo stile di gioco. Ancora tanti grandi score azzurri, il meno 3 di Matteo Manassero fa il bagno di folla in recording area dove si fa a gara per avere la firma del veronese o di quella del vicecapitano Ryder Cup Edoardo Molinari che parte con un 69 nel primo round. Una giornata di golf, ma anche di cultura sportiva, interessante l'incontro tra Panucci e Canonica in sala stampa dove i campioni hanno parlato di come gestire e proteggere la propria carriera. Un'occasione per incontrare chi del golf ha fatto la sua passione in una cornice magica come l'Hospitality, elegantissimo, sul green dell'A18. Amici del golf, qui è tutto aperto. Il magico tunnel, il commerciale, le palestre all'aperto, le zone relax, vediamoci ancora domani che qui gli azzurri ci stanno facendo sognare la dolce vita. Swing your life!